ben trovati da andrea di pre vi ho stupiti con la storia straordinaria di paola polisseno che ha condiviso il sesso con un alieno giusto paolo confermi questo assolutamente confermo e lo rimpiango anche sono qui ad attendere il ritorno della verità comunque aspettiamo vi ecco ma intanto saluto anche patrizia polisseno la sorella ben trovata patrizia ben trovati anche a voi ma oggi è una grande sorpresa perché abbiamo anche da proporvi e da presentarvi l'uomo che ha condiviso il sesso con una aliena si chiama guido sorini guido grazie per testimonianza che è successo allora è successo questo che circa dieci anni fa diciamo in dormiveglia mi sono trovato mi sono come sentito portar via trasportare per un lungo viaggio e poi diciamo mi sono trovato aprendo gli occhi leggermente ma sempre nel sonno o nel dormiveglia in un'astronave io lì per lì sono rimasto meravigliato perché ho detto ma che situazione è questa e mi sono trovato di fronte a una donna mora bellissima cosa che io conosco tanta gente in italia ho avuto a che fare con tante persone però sinceramente bella così non me la sono mai trovata di fronte la quale a un certo punto insomma mi ha fatto un po capire che avrebbe voluto avere un certo approccio per curiosità essendo io un essere umano un terrestre e cosa è successo guido con quest'aliena è successo che a un certo punto questa diciamo non era investito non ce n'aveva non si dice vestiti diciamo sulla terra lì ora uno so come diranno comunque era diciamo al naturale e praticamente sono arrivato al punto diciamo così prima ho cercato anche di baciarla ma questa si è rifiutata si è rifiutata perché mi ha fatto capire a modo suo che non voleva avere un contatto a livello salivare perché aveva paura forse che noi terrestri potessimo trasferire dei microbi e a quel punto poi però diciamo mi sono trovato di fronte anche una sorpresa perché cosa che un mera ma capitata sulla terra mi sono trovato di fronte una donna bellissima ma che però c'aveva l'organo sessuale femminile per traverso io ripeto detto ma ora come mi metto uscire anche dal posto siccome io fra l'altro sono anche un po impedito quindi mi si vuole anche un certo spazio ho dovuto anche studiare come potevo fare perché sinceramente era un problema nuovo che non mi era mai capitato certo un fatto nuovo un fatto nuovo allora allora quindi il approccio con quest'aliena ha presentato questa problematica si ha creato questa problematica come avete risolto come ha risolto era un risolto che ho cercato di mettermi nel verso diciamo per traverso in croce in modo in maniera che ce l'avessi come sono quelle quelle sulla terra perché per traverso io se non riuscivo a fare nulla e quindi e quindi poi si è fatta l'amore fra l'altro voglio dire mi sono avuto anche modo di capire che il sesso diciamo in quell'ambiente lì praticamente è un sesso molto sfrenato una cosa che va al di là di quello che è diciamo anche il sesso più a livello eccessivo che si ha qui sulla terra perché lì addirittura sembra che vivano di sesso e sinceramente è stata una bella storia allora io che ho fatto ho cercato anche di fargli capire se si poteva girare senza andare oltre che tanto si capisce però questa a un certo punto mi ha detto praticamente mi ha fatto capire che certe cose loro non le fanno e quindi poi a un certo punto diciamo mi sono rivegliato e mi sono trovato una letta a casa mia e ho capito che era un sogno ma quindi è un sogno ma è un fatto che ricordi nei dettagli io non ricordo le ricordo le dettagli perché mi ricordo anche certi particolari di questo ambiente di questa astronave diciamo nella quale mi sono trovato che fra l'altro non so né da dove sono entrato né da dove sono uscito perché mi sono trovato lì e poi mi sono trovato nel letto a casa e di conseguenza tutto il resto praticamente è tutto nebuloso e quindi non sono neanche in grado di spiegare perché non lo ricordo perché non l'ho visto è chiaro è chiaro sentiamo adesso se Paolo e Patrizio Polisseno Paolo anche con la sua esperienza diretta hanno delle domande da da porti certo sentiamo no intanto prima della domanda allora confermo che secondo me è avuto veramente un'esperienza in astrale te dici nel sogno nel dormiveglia questi ponti alieni si agganciano soltanto nel momento prima del risveglio quando l'energia è densa e sta per rientrare nel corpo invece di rientrare nel corpo viene proiettata su quella frequenza andandoci in sintonia quindi te in qualche modo vibri in una sintonia aliena e hai raggiunto quel ponte in quel ponte hai avuto la possibilità col tuo corpo astrale di vedere quella dimensione in quella dimensione lì effettivamente loro coi terrestri cercano di avere rapporti che non siano diciamo protetti diciamo perché per loro gli umani portano dei batteri dei virus perché loro vivono in assenza di patologie di agenti patogeni quindi è vero che loro non bacerebbero un terrestre infatti che aveva una lingua diciamo stretta e lunga per cui il pelì mi ha fatto anche un po' effetto perché sembrava che fosse più la lingua non serpente che la lingua non umana che poi non era umana perché era praticamente un essere così però in tutti i modi è vero che non vogliono essere baciati e comunque posso aggiungere che la loro lingua è mutabile, è mutante nel senso a seconda del tipo di eccitazione che hanno la lingua gli cambia forma un po' come all'uomo sulla terra che a seconda del livello di eccitazione gli cresce, gli aumenta, gli va storta, insomma quello che è però insomma gli cambia forma e alla donna gli succede con la lingua, cioè a seconda del tipo, del livello, del grado di eccitazione e la lingua un po' biforcuta è un primo livello quindi non è che fosse proprio alle stelle no 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 un momento ma io parlo prima eh all'inizio all'inizio perché ah ecco vedi è chiaro sì no ancora non ti aveva assaggiato vedo una persona sì 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 io ho fatto messi di panità e dopo come gli è diventata? no dopo 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 sinceramente io a dire la verità non è che l'abbia guardata più di tanto perché potrebbe guardare qualcos'altro però sinceramente gli era ingrossata in effetti è vero sì 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 tant'è che sembrava diventata una salsiccia allora era proprio al top l'esempio è questo eh sì 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 allora sì qui ci sono anche aspetti di biologia aliena sentiamo sentiamo Patrizia Poliseno che domanda ad apporti io volevo chiederti ma no ma perché cerchiamo se facciamo le veci del cicat con noi noi siamo le aliene vere e possiamo dire se è una cosa è vera o no che ha avuto questo rapporto sessuale con un'aliena infatti non capita tutti i giorni ma sarebbe bene anche che capitasse speriamo che questa volta sia vero però nel senso è nel vero nel senso sia fisicamente a livello su questo piano su questa dimensione esattamente su questa dimensione terrestre allora sentiamo Patrizia la tua domanda sì ti volevo chiedere ti ha lasciato a risveglio un ricordo tangibile di questo incontro? ti ha lasciato a risveglio? un ricordo tangibile? un segno sì 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 l'ha lasciato non si può raccontare ma l'ha lasciato sì no per ragioni per ragioni per ragioni di conoscenza scientifica dovresti dire a questa tv scientifica il ricordo quale è stato no ma il ricordo praticamente è diciamo la reazione fisica mia come mi sono trovato quando mi sono svegliato evidentemente io a un certo punto ho avuto un'accelerazione fortissima perché quando mi sono svegliato insomma mi sono accorto che c'era stata questa incitazione da cosa ti sei accorto? sì da cosa mi sono accorto mi sono accorto perché se non si trova tutto bagnato vuol dire che qualche cosa successe ma il letto era totalmente allagato? il letto mio? eh cioè notavi? un censo mi ha buttato un segno d'acqua eh che censo? no perché è un effetto cioè ci sono delle controindicazioni tra alieno umano no? può anche succedere che ci sia uno svuotamento totale delle pale? no 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 diciamo c'è stata una superficie abbastanza vasta cospicua però abbastanza vasta però non è che è tutto il letto non ci mancherebbe altro no 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 vabbè lei ha trovato sì era un alieno altre domande per questo caso incredibile di sesso alieno altra domanda dalla commissione Poliseno no per esempio ti ha rivelato che loro non hanno il ciclo mestruale che loro le gravidanze non esistono indesiderate che loro praticamente hanno delle gravidanze stracorporee perché non esiste niente che non sia imperfezione sinceramente in certi dettagli non siamo entrati tu puoi descriverci puoi descriverci esattamente l'anatomia di questa aliena l'anatomia di questa aliena io so che era i capelli bruni proprio lunghi per l'altro oltre la vita gli scendevano giù poi aveva una pelle bianchissima bianchissima come il latte e poi era formata diciamo formata come una donna normale soltanto che diciamo c'aveva ecco i seni sinceramente mi è sembrato per quello che ho un modo di ricordare che non fossero perfettamente allineati e cioè che ci fosse diciamo un certo squilibrio diciamo di posizionamento fra uno e l'altro questo io l'ho notato e poi era proprio rasata come una bambina come una neonata praticamente cioè non aveva diciamo io volevo aggiungere una cosa quando hai detto di traverso secondo me il problema è un altro cioè tu hai avuto questa sensazione ma io l'ho guardata bene sì ma lo sai perché c'è quella cosa lì perché loro sono omologate ai loro uomini alieni che hanno dei peni imperiali per dimensione per maestosità eccetera di conseguenza magari te talmente era posizionato un po' in larghezza perché per poter accogliere delle maestosità però loro sono automatiche nel senso sei rimpicciolita o no con te io mi ricordo ecco un particolare ora ci ripenso che io anzi sinceramente sono anche rimasto perché c'aveva un oggetto al braccio tipo un orologio ma non doveva essere un orologio era un qualche cosa che non ho capito bene che cos'era ha piùsato un bottoncino e gli sei rispettita e questa è stata una cosa che a un certo punto ma anzi addirittura addirittura diciamo l'ha fatto mentre eravamo lì e mi sono sentito anche stringere proprio mi ha fatto anche un po' paura perché ho detto Dio ma che succede poi non me lo taglia esatto perché con un soggetto che uno non conosce non sa mica male le relazioni che può avere siamo di fronte a un caso incredibile dove praticamente sì il nostro amico Sorini Guido ha avuto un'esperienza extraterrestre autentica il verdetto della giuria dei cloni alieni è sì possiamo riconoscere sì 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 Patrizia anche tu si concordi con questo siamo d'accordo allora complimenti Guido Sorini perché di fatto la commissione ha detto sì scientifica aliena le donne dell'astronave hanno detto sì volevo volevo far l'altro fare una precisazione che questo discorso è successo appunto circa dieci anni fa ma io non l'ho mai rivelato perché a parte che diciamo era diciamo in dormimento nel sonno ma siccome io avevo sempre a che fare finché ho esercitato una professione col pubblico e raccontando un sogno del genere volevo che magari mi prendessero per uno un po' e perdere anche la credibilità che avevo a questo punto tanto sei in pensione ora che ti importa ora hai parlato come fanno quelli dell'aeronautica quando vanno in pensione o gli scienziati in pensione che poi parlano e ti hai fatto uguale quindi torna tutto non c'è più segreti non c'è più niente perché tanto a me a quel punto qui che diano ecco sì ecco no non mi interessa più di tanto perché oramai la mia attività è finita e quindi io essendo in pensione ho raccontato se non non l'avremmo detto uno non l'ha detto a nessuno perché siccome si sa che quando una cosa si dice e si sa più di uno poi piano piano le saranno in zoppi e siccome è una cosa strana ma strana so da seconda a chi si raccontava poterà se veramente ti prendesse l'ho detto otteniamola per me e poi vuol dire che se capiterà l'occasione l'opportunità o la circostanza giusta la racconterò e questa diciamo è la circostanza poi magari sei anche incoraggiato perché hai visto la confessione di Paola Poliseno infatti ho detto di un'altra ti sa che ti ha dato coraggio ha raccontato questo fatto a me mi è successo dieci anni fa ora posso raccontare allora Guido se questa aliena ti sta guardando in questo momento cosa vuoi dire a questa io la saluto molto affettuosamente e spero che qualche volta mi ricapiti la stessa avventura magari diciamo così sulla terra con quella donna perché era bellissima bella così io credo che non ne troverò mai e quindi mi farebbe molto piacere rincontrarla bene allora con questa speranza grazie Guido Sorini il primo uomo che così dichiara di con approfazione della commissione di aver condiviso il sesso con un'aliena vi ringrazio e come sempre lascio però la parola finale a Paola e Patrizia Polisseno andate in pace sì anch'io vi saluto tutti e vi ricordo che non prendete ridere queste parole perché sono molto molto ma molto serie andate in pace grazie a tutti 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 grazie a tutti